Ancora disagi per il porta a porta a Torre del Greco. Crescono le lamentele e le segnalazioni dei cittadini. L'ultima arriva da via Gaetano De Bottis in merito al posizionamento dei bidoni all'interno di un parco privato. Siamo in un parco privato in via Gaetano De Bottis a Torre del Greco. Ancora disagi per il porta a porta. I residenti lamentano il posizionamento dei bidoni e la difficoltà di utilizzarli per portarli fuori la sera. Noi non siamo contro il porta a porta ma è evidente che non funziona. Perché al momento oltre a tutti questi cassonetti lasciati qui capovolti da impiegati comunali ci mancano ancora quelli della plastica quindi ce ne saranno ancora altri. La problematica non è tanto come organizzarci perché saremo anche disponibili a collaborare. Il problema più grande è proprio dove posizionarli sia all'interno che come si vede ci sono dei dividi di sosta dove ci sono anche delle uscite di emergenza di un garage quindi non possiamo metterle né davanti alle serrate né all'interno del parco. All'esterno del parco invece c'è pochissimo spazio che anche i mezzi di emergenza non riescono ad entrare. Quindi figuriamoci se riuscisse ad entrare il mezzo per il ritiro della spazzatura. Quindi noi quello che chiediamo all'amministrazione è dove posizionare. Loro ci indicano il marciapiede esterno ma oltre a occupare un passaggio dove le persone non possono scendere per strada considerando che via De Bottis ci sono due curve pericolosissime questi mastelli dove persone anziane, persone giovani e bambini soprattutto sono costrette a camminare in strada ormai considerando che durante l'inverno la pioggia porta tutto verso via 20 settembre quindi anche le macchine mettendo in pericolo anche motociclette, macchine insomma che scendono la strada e in più ci dicono di posizionarli sul marciapiede esterno. Ma su un marciapiede esterno ci sono delle sorrende che sono di proprietà privata non è proprietà nostra del parco perché se così fosse noi già l'avremmo posizionata e non avremmo nemmeno sollevato il problema. Quindi non è che c'è una mancanza di voglia nostra insomma di collaborazione. Noi chiediamo semplicemente che già abbiamo chiesto tramite gli amministratori di avere un colloquio con l'ufficio tecnico del comune e lo chiediamo adesso anche a voi di aiutarci a chiedere un intervento che ci diano una soluzione dove è posizionale. Da giorni i residenti sono costretti a tenere la spazzatura in casa sui balconi con inevitabili disagi e lamentano una mancanza di organizzazione da parte dell'amministrazione comunale della ditta nella gestione del servizio. Noi da giorni abbiamo la spazzatura che non sappiamo dove metterla, sui balconi ormai con formiche che ci invadono e vogliamo renderci conto come dobbiamo fare insomma dove li dobbiamo posizionare. In questo parco tra l'altro abitano anche molti anziani. Sì, 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 abitano molti anziani quindi anche se nonostante gli anziani c'era abbastanza collaborazione e per noi era ottimo anche il punto raccolta che si trovava sul largo della Santissima Trinità. Quindi noi abbiamo anche chiesto se magari potevano trovare un'alternativa cioè lasciando un camion ovviamente in orari prestabiliti dove ci saremmo potuti regare oppure l'alternativa sarebbe magari mettere dei mastelli visto che sono dei proprietà condominali ad aprirli con una tessera dove ovviamente identifica il condomino del parco di Via De Bottis e viene messa la spazzatura. Perché questa è una situazione paradossale, il mezzo per il prelievo non può entrare. Voi all'esterno naturalmente non potete portare questi bidoni, come si fa? Oltre che non poter entrare perché le posso assicurare che se non è un abitante del parco è impossibile quasi entrare visto che c'è un'apertura molto stretta ma anche all'interno del parco dove posizionare questi bidoni perché come vede ci sono delle serrande dove ci sono delle uscite di emergenza quindi già spazio non ce n'è. Non c'è un personale e dovremo affidarci privatamente a qualcuno quindi andare oltre a subire un onere di tassa di spazzatura che già paghiamo e che non è neanche poca, dobbiamo anche addossarci l'onere di pagare un privato che ci faccia la cortesia di ritirare questi mastelli e metterli fuori per poi venirli a ritirare chissà che ora sperando che comunque sia passato qualcuno a ritirare la spazzatura perché come già sappiamo e come è già evidente per tutto Torere Greco arriviamo anche alle due del pomeriggio che la spazzatura ancora non è stata ritirata quindi qualora questo non succedesse dovremmo rientrare questi mastelli ma a parte che saremo anche disposti nel caso a fare una cosa del genere ma il problema resta una volta usciti fuori pur pagando qualcuno dove li metterà questo qualcuno? Quindi i cittadini virtuosi vogliono fare il porta a porta ma si evince una carenza sul piano organizzativo? Il piano organizzativo è un aggiorgistico, non si sa dove metterli, non c'è spazio non c'è spazio, diciamo che il porta a porta sarebbe anche utile ma forse in zone dove c'è spazio, in villette ma non sicuramente si chiama via dei botti ma in realtà è un bico è un bico dove l'inverno c'è tantissime problematiche sia a parte il traffico di lava e di tutto quindi voglio dire, secondo me è una strada pericolosa è una strada pericolosa ci sono già due curve altrettanto pericolose quindi voglio dire, già questo posizionamento per i palazzi che si trovano ai civici in fondo e siamo costretti a scendere tra l'altro è un bico dove ci sono bambini con passeggini cioè quindi mamme con bambini con passeggini e persone anziane quindi già è scivoloso perché non è mai pulito Quindi in definitiva i residenti di questo parco che cosa chiedono all'amministrazione comunale? Chiedono un intervento e dirci dove posizionare questi mastelli ma non limitandosi a dire metteteli fuori perché quando sono venuti gli amministratori comunali a scaricare i bidoni ci hanno detto metteteli fuori ma fuori dove? Io vorrei essere accompagnata sul posto a dire li mettiamo qui o che si assumessero loro l'incarico ecco, si pensano che si possa fare un divieto di sosta dall'altro lato in marcia a piede per poi creare degli spazi Ma chi lo fa? Noi siamo semplici cittadini tra cui non dobbiamo litigare con il vicinato o discutere con la persona perché gli andiamo a mettere la spazzatura sotto al balcone o davanti alla finestra Il comune deve posizionare un'isola, una zona e deve posizionarli lui, questi mastelli e noi di buona volontà, disciplinati come siamo collaboriamo ma se è prima lui a non collaborare cioè se non collabora l'istituzione ma come pretende che lo facciano poi i cittadini? Per individuare una soluzione alla problematica nell'ottica della collaborazione per il buon funzionamento del servizio che presenta ancora numerose carenze e criticità dai cumuli che restano per giorni per strada dal centro alla periferia alle mini discariche abusive dallo spazzamento alla mancanza dei bidoni criticità e carenze sotto gli occhi di tutti